Il pareggio di Bari Quindi la prepariamo al meglio per cercare di vincerla Un punto secondo me guadagnato se poi andiamo a analizzare tutta la partita Anche se potevamo chiuderla prima e portare la vittoria a casa Però è anche un punto per noi prezioso e fondamentale nell'economia totale del campionato Sicuramente l'atmosfera era bellissima, un grande stadio, loro una grande squadra Però noi non l'abbiamo deveritato assolutamente Ho cambiato diversi ruoli quest'anno Dove il mister chiede di giocare io cerco di fare il massimo e di dare tutto quello che ho Per me sì, questo è un vantaggio perché mi permette di poter ricoprire più ruoli Due partiti che comunque non perdiamo Questo per noi è una grande cosa Stiamo facendo sempre risultati sia in casa che fuori casa Però come ho già detto in precedenza la nostra salvezza dobbiamo costruire in casa E quindi portare i tre punti sarebbe il massimo Sì, i miglioramenti sono notevoli Tutta la squadra è migliorata moltissimo C'è una solidità difensiva importante E qui si vede tutta la mano del mister Che comunque lavorando solo dall'inizio Adesso i risultati si vedono